Diamo benvenuto a Donato Savatteri, Country Head per Tiro Price, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019. In seconda analisi, dato che siamo a Salone, c'è il tema della sostenibilità che è in primo piano, capire un po' come viene interpretata dalla vostra società questa tematica. Certo, buongiorno innanzitutto. Il 2019 è cominciato in maniera veramente molto positiva per Tiro Price. A livello globale gestiamo oltre mille miliardi e abbiamo incrementato per l'ennesima volta il nostro dividendo. Ennesima volta intendo per il trentatresimo anno consecutivo abbiamo incrementato il dividendo e quindi questo ci pone anche tra le società cosiddette dividend aristocrat. Per quanto riguarda l'Italia, è stato un anno cominciato veramente molto bene. Sulla scia anche dell'ottimo risultato conseguito nel 2018, con un'ottima raccolta, ma soprattutto abbiamo aumentato gli accordi di distribuzione, siamo entrati in partnership con una grande società per una delega di gestione e devo dire che abbiamo un brand che diventa sempre più conosciuto. Quindi per noi è assolutamente un 2019 molto interessante. Tra l'altro a livello di mercato, siccome prevediamo una volatilità sempre più marcata, diciamo che questo ben si sposa con la filosofia di gestione attiva di Tiro Price. Per quanto riguarda invece la sostenibilità, come si faceva riferimento, Tiro Price naturalmente la considera uno dei temi principali. Siamo firmatari dei principi sugli investimenti responsabili delle Nazioni Unite addirittura dal 2010, quindi per noi è un tema non di adesso, ma è un tema di cui si parla in Tiro Price da almeno nove anni in maniera consistente. Abbiamo integrato le considerazioni ESG all'interno della nostra ricerca, del nostro processo di investimento, abbiamo un team dedicato con un direttore della ricerca ESG che si interfaccia con i nostri gestori e analisti. Quindi sostenibilità assolutamente, secondo noi, sarà il futuro, dobbiamo contribuire attivamente a questo futuro.